Tiziana Buccico, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti, buona vita! E benvenuta! E certo, ce n'è bisogno di vita e c'è bisogno di buona vita. E credo che sia importante augurarsi buona vita, che cosa ne dice? Per me è diventato una sorta di mantra, se si può usare. Lo uso come saluto in generale, perché non credo che in questo frangente basti solo la vita, ma basti quella buona. Bisogna credere nella buona vita e sforzarsi un pochettino perché lo sia. Sì, ricordo una volta, proprio parlando di festival, Festival di Torino Spiritualità, il curatore Armando Buonaiuto ebbe a dire una definizione che a me è piaciuta particolarmente. Oggi come oggi si parla molto di realtà aumentata. Invece Armando Buonaiuto raccontando il festival diceva abbiamo bisogno di vitalità aumentata. Ecco, io credo che vada un po' incontro alle parole di buona vita, vero? Sì, assolutamente sì. Io credo che ci voglia tutta l'energia positiva, tutto l'ottimismo, anche se vogliamo quel sano egoismo che ci lega alla vita, no? E che ci permette di trovare il sorriso tutte le mattine. E con Tiziana Buccico noi andiamo a raccontare una mostra fotografica. Tiziana Buccico è napoletana, appassionata di cultura a grande raccio, di politica, di Medio Oriente. Ha vissuto anche in Iran, rientrata poi in Italia, si occupa di politica, di giornalismo, di eventi culturali, come quello che stiamo per raccontare. Un evento culturale che si svolge a Saluzzo in provincia di Cuneo. Racconti d'Afghanistan. Una mostra fotografica di Mario Laporta che sarà aperta fino al 23 gennaio prossimo. Tiziana Buccico, questi racconti d'Afghanistan ovviamente sono racconti che sono datati ormai, che non propongono un Afghanistan che noi abbiamo visto, raccontato recentemente, ma va indietro nelle pagine della storia di questa nazione, di questa terra così martoriata non da oggi. E lo fa con una particolare incisione fotografica e di racconto Mario Laporta. Anzitutto, chi è questo fotografo? Allora, Mario Laporta è un fotogiornalista, fotoreporter, come ama giustamente definirsi lui, che ha toccato moltissime aree di crisi, ha raccontato molte guerre, ma ha raccontato anche molti momenti esaltanti, come i giorni prima della caduta del muro e la caduta del muro, ad esempio. È un giornalista che guarda con gli occhi del cuore e quindi fotografa immagini particolari. Questa mostra racconta l'operazione Anaconda nel 2002, quindi è un racconto esattamente un po' datato, ma racconta un ritornare alla vita in quel momento per il popolo afgano e racconta la vita del popolo afgano, non solo le immagini che siamo abituati a vedere o di guerra o di disperazione, ma anche il quotidiano, se così possiamo definirlo, in un paese così complicato è sempre attraversato da guerre procurate o no. E soprattutto un paese fondamentale, importantissimo per quell'area, importantissimo per la geopolitica, considerato una delle pedine del gioco, del grande gioco tra le grandi potenze e una anche delle porte ad oriente, se vogliamo. Eh sì, certo queste fotografie, come diceva poco fa Tiziana Buccico, non rappresentano l'oggi, ma per capire l'oggi bisogna andare a sfogliare, per così dire, quest'album fotografico che Mario Laporta propone in questa mostra. Lei ha citato poco fa l'operazione Anaconda, non tutti ricordano questa operazione militare che aveva un obiettivo ben preciso, qual era? Era quello di ridare, diciamo, una sorta di speranza. In questo Afghanistan si può dire martoriato ripetutamente, no? Da, se vogliamo, invasioni, non invasioni interne, aiutate o non aiutate. Quell'operazione cercava di ripristinare, se la parola mi viene concessa, una sorta di normalità. Quindi arrivano, diciamo, le forze occidentali e cercano di ripristinare una vita, se si vuole, quotidiana che avesse anche dei ritmi che gli consentisse di vivere, di ritornare nelle università, no? Di ritornare a giocare con gli aquiloni per strada. In queste immagini ricorrenti che noi abbiamo voluto, come dire, raccontare, vediamo il patricere, le bancarelle con i libri, le file però per chiedere i beni alimentari. Quindi, come dire, di nuovo giocare il buzukashi, che è questo gioco, diciamo, con la capra, no? Che loro giocano tradizionalmente, ormai da centinaia di anni. Cioè, il tentativo di vedere la vita così come è nel quotidiano e non nell'emergenza e non con i raid aereo, con i bombardamenti chiusi dentro. Questo è il racconto di Mario, La Porta. Lei è mai stata in Afghanistan, Tiziana Buccico? Allora, io non sono mai stata in Afghanistan con grande dolore. Come lei ha detto, io ho vissuto otto anni in Iran. Ho viaggiato in quell'area, ma purtroppo la contingenza non mi ha permesso di entrare mai in Afghanistan. Il modo più rapido dall'Iran sarebbe stato passare da Herat, dove c'erano anche le nostre forze, peraltro, militari. Ma non è stato mai considerato così sicuro per noi andare lì. Ma lo dico con grande sincerità, è proprio un sogno che nutro e che coltivo ogni giorno. Però in Iran ho avuto modo di conoscere molti afghani, la loro grande umanità, e devo dire che attraverso gli amici iraniani e gli amici afghani che ho conosciuto lì, un po' l'Afghanistan lo sento più vicino. Eh sì, perché l'Iran, la Persia e l'Afghanistan hanno collegamenti storici e non da poco, da tantissimi, da tantissimi anni. Quando parliamo di Iran, una delle persone che mi ha fatto scoprire l'Iran come lettore è Anna Van Zand, con alcuni suoi libri che sicuramente hanno fatto parte della sedimentazione culturale nei confronti di questa terra così straordinaria. Ricordiamo Anna Van Zand con il libro Diario persiano, uscito 4-5 anni fa, e poi tra l'altro ricordiamo anche come traduttrice di alcuni libri che noi abbiamo anche raccontato qui, i libri di Sadek e Dayat, pubblicati da Carbonio, la civetta cieca e poi il randaggio e altri racconti. Lei come la ricorda Anna Van Zand e Tiziana Buccico? Per me Anna è stata un'amica, un'amica generosa. Mi piace dire questo termine generoso perché Anna mi ha insegnato molto, Anna è stata molto cara con me perché quando nell'impossibilità della sua malattia Anna non viaggiava più tanto e non poteva più raccontare le sue traduzioni, i suoi libri, il suo essere, io sono stata per lei in Iran una specie di ambasciatrice, se mi posso freggiare di questo titolo, quindi ho goduto del fatto di aver avuto fiducia da parte di Anna e Anna mi ha fatto raccontare delle sue opere, mi ha fatto raccontare, abbiamo con Anna, mi piace parlare al presente, abbiamo condiviso la nostra visione dell'Iran ma la nostra visione di quello che è questo Oriente che raccontiamo sempre da occidentali, invece con Anna abbiamo condiviso che non si può dividere il mondo in Occidente e Oriente, ma bisogna conoscerlo quell'Oriente per poterlo raccontare e allora non è più un racconto da occidentale, è un racconto da essere umano che conosce entrambi i mondi, che non sono così divisi e con Anna questa è stata una fortissima condivisione, io le devo molto e devo dire che la sento sempre presente perché ricordo quello che lei mi ha insegnato e ricordo anche quello che mi ha trasmesso. Lei diceva poco fa, Tizia Nambucci, che una cosa importante su cui forse c'è la necessità di calcare l'attenzione a livello politico, diplomatico, a livello internazionale o forse ancora prima che la politica e la diplomazia a livello culturale, lei poco fa parlava di Oriente e Occidente, quindi le chiedo ma quale senso ha ancora oggi parlare di Oriente versus Occidente? Le chiedo questo non per fare un melting pot continuo, come per semplificare le culture che sono diverse, ma probabilmente parlare di Oriente e di Occidente rimane un pretesto un po' novecentesco. Assolutamente sì, colgo l'occasione proprio per dire che questa mostra, diciamo che è il pretesto per questa piacevolissima chiacchierata tra di noi, spero come dire che possa essere anche un invito verso altri, questa mostra per esempio i racconti d'Afghanistan è stata voluta da un comune molto bello, come lei ha detto, del Cunese, che è saluzzo, da un comune vero, cioè un comune che ha cercato di operare sempre, come dire, per far conoscere, Oriente e Occidente, non come due entità separate, ma come una sola entità, cioè il mondo, quello che è il pianeta che noi abitiamo. E quindi, per esempio, in questo c'è una grande visione, quella del comune di Saluzzo, insieme a questo istituto Garuzzo per le arti visive, che ha sempre lo scopo, per esempio, di andare a far conoscere l'arte contemporanea italiana in giro per il mondo. A proposito di Oriente e Occidente, l'Istituto Garuzzo è veramente una realtà che è ricca di dialogo, è ricca di dialogo nei confronti di quei paesi, di quei paesi cosiddetti lontani. I racconti d'Afghanistan, questa mostra che sarà aperta fino al 24 gennaio con le fotografie di Mario Laporta. Ora, Tiziana Buccico, quando noi raccontiamo le mostre d'arte, chiediamo sempre ai nostri ospiti, e lo chiedo a lei, estragga un'opera e ce la racconti, ce la faccia vedere con parole sue. Ah, fantastico, posso sceglierla anche che chiaramente non sia italiana, no? Racconti una fotografia dalla mostra Racconti d'Afghanistan. Allora, io ho una foto nel cuore, ed è la foto di questo bambino che dipinge un paesaggio, è una foto a specchio, molto bella, in cui non si capisce, premetto che noi abbiamo realizzato la mostra in gran parte in bianco e in nero, per scelta, e abbiamo solo due foto a colori. La foto in bianco e nero che io preferisco è la foto di questo bambino che dipinge un paesaggio e nella foto non si capisce se lo dipinge lui o lo sta vedendo a specchio, e quello mi sembra il modo migliore per immaginare i bambini che vanno oltre, i bambini che possiamo salvare, i bambini che vedono la luce anche se c'è il buio o ci sono i bombardamenti. Queste nuove generazioni che io mi auguro possano studiare in giro per il mondo e tornare in Iran, tornare in Afghanistan, perdonatemi, e ridare vita a questo paese, ridare la giusta vita a questo paese. La foto a colori che amo di più è la foto di questa tessitura di tappeti. Tessere il tappeto è una storia complicata, antica, bella. Tessere un tappeto significa avere pazienza, significa sacrificare le proprie mani spesso per un lavoro che poi immaginiamo calpestato. Invece il tappeto è qualcosa che vive nelle case, è qualcosa che racconta, è qualcosa che dà vita. Quindi mi piace raccontare queste due immagini che per me sono nel cuore. Poi ci sono le immagini delle università, delle donne, degli uomini all'università che guardano nella stessa direzione. Anche quello è un'immagine che un po' commuove. Però per non entrare in una retorica io credo che nei bambini e nella tessitura dei rapporti quello sia il vero valore che dobbiamo dare a questo mondo nuovo. E che cosa rimane di quel mondo oggi in Afghanistan? Io credo che rimanga molto. Le notizie che noi abbiamo e le immagini che noi abbiamo sono regalate dai mass media ovviamente a volte anche un po' ad arte. Però se si va a cercare nei giornalisti che ci sono stati da poco che hanno viaggiato Gaia Pellegrini Bertolli Giuliano Battistone Lucia Goracci vediamo anche immagini diverse immagini di chi comunque vive e sopravvive e ci provano e quindi io credo che in Afghanistan ci sia un potenziale di vita maggiore forse quello che noi abbiamo adesso e sono quelle le cose che dobbiamo aiutare non solo criticare o immaginare come dire azioni oltrettanto violente come quelle che oggi abbiamo visto nelle immagini ma anche vedere quei bambini che superano i muri dell'aeroporto è un'immagine forte però è anche un'immagine di estrema voglia di vivere e noi dobbiamo dare speranza a questo popolo a questi giovani e lo dobbiamo dare tutti i giorni ecco un'altra delle cose che racconti di Afghanistan vuole fare è non spegnere la luce su questa realtà cioè continuare a raccontarla non solo quando gli accadimenti sono un bombardamento un'uccesione una legge come dire no cattiva o repressiva tutti i giorni raccontarlo tutti i giorni raccontare tutti i giorni l'impegno anche a visitare una mostra è una testimonianza è anche un segno del dare speranza perché essere davanti a queste immagini è anche questo e certo non possiamo rivoluzionare il mondo con la presenza di fronte a queste immagini ma dobbiamo sicuramente dare il nostro impegno come diceva poco fa Tiziana Buccico ogni giorno prima di salutarci invece qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro iraniano che si chiama Tehran le lumache fanno rumore edito da Briofsky ed è un libro che racconta la storia di tre donne in Iran ed è un libro che mi piace molto già solo il titolo è un libro di per sé ed è un libro che racconta la visione di tre donne che hanno subito una perdita e che reagiscono in tre modi diversi e questo è una cosa che come dire mi aiuta a capire anche l'universo femminile e le reazioni però lo devo dire il libro che mi accompagna da tutta la vita sono due gli aforismi di Oscar Wilde e il conte di Montecristo di Diuma come mai questo rapporto tra questi due libri che sono una compagnia quotidiana perché io sono un amante degli aforismi e da dieci anni pubblico ogni mese delle perle di saggette e li trovo negli aforismi amo Flaiano amo Longanesi amo Calir Libra ne amo tanti però per me Oscar Wilde è un po' una luce e forse il mio animo partenopeo mi aiuta in questo lui a Napoli ha vissuto il periodo dopo la dopo Reading dopo la sua permanenza in carcere e perché mi piace il suo spirito di vita mi piace non lasciare niente intentato nella vita mi piace rischiare anche mettiamola così e quindi amo Oscar Wilde follemente da bambina e quindi lei scrive anche aforismi allora io ho anche aforismi miei ma ho l'umiltà di non pubblicarli ma allora ce ne dica uno ce ne dica uno di sua composizione no 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 ma non lo farei mai perché toglierei come dire lo spirito che è quello di raccontare di dare delle perle di saggetto e allora ce ne dica uno che le sta molto a cuore ma guardi io più che un aforisma io stamattina se lei me lo permette leggo una cosa a cui tengo molto e che è una frase di una poesia tradotta dal professor Domenico Arturo Ingenito professore all'Università di Los Angeles che ha tradotto un verso di una poesia di un afgano contemporaneo di una poetessa afghana contemporanea lascia che volino queste pietre lascia che gli aerei rimuovano le montagne dovunque trovino pietra la pietra si spezza eppure pietra resta pietra lascia che le pietre nuovamente eriggano altre montagne lascia che le pietre rigano altre montagne ma che le pietre non rigano muri questa è una differenza sostanziale grazie grazie davvero Tiziana Buccico per queste parole che ci ha regalato partendo dalla mostra racconti d'Afghanistan a Saluzzo fino al 22 gennaio con le immagini di Mario Laporta e la mostra curata da Tiziana Buccico buona giornata grazie arrivederci grazie 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 grazie